buonasera a tutti una bella sera ad istanbul c'è un tempo meraviglioso però voi avete scelto la letteratura io mi chiamo nermin mollaolo sono fondatrice di calem e debiata e sono anche la direttrice generale della itef e la terza serata di un programma e matteo struglo e ai cecac maxi mettono a parlare è un libro meraviglioso ben tradotto proprio dall'italiano infatti abbiamo chiacchierato un po' dicendo che è stato molto ben tradotto ho imparato tante cose sulla famiglia dei medici quando sono arrivata alla fine ho visto che andrà avanti il che mi rende molto contenta magari ci vogliono degli anni dei mesi e voglio andare proprio in italia a firenze a vedere dove hanno vissuto queste famiglie non so se lo anche signora ai ci ha pensato così certo anch'io ho pensato italia è un paese meraviglioso infatti anch'io ho voluto essere lì speriamo un giorno insieme andiamo e così matteo magari ci accompagna adesso parliamo della famiglia di medici intanto faccio vedere anche il libro di aicia è la terza edizione adesso lascio a voi la parola fra un'ora ritorno e poi concludiamo sì veramente una serata meravigliosa di istanbul e noi pure siamo molto fortunati perché ci siamo incontrati con matteo e abbiamo un argomento meraviglioso alcuni di noi lo conoscono e purtroppo matteo si conosce poco unico suo è stato un unico suo libro è stato tradotto però so che in italia è molto conosciuto e molto amato infatti quando l'ho letto mi è piaciuto tanto a lui ciao ben arrivato matteo siamo molto contenti di ospitarti qua speriamo buonasera a tutti voi buonasera a tutti ciao alcia un grande piacere per me essere qui sono contentissimo di essere tradotto in turchia quindi saluto le lettrici e lettori turchi li ringrazio insomma chi ha chi ha scelto ha voluto dare una chance a questo a questo libro insomma speriamo che che ne possono arrivare altri ma sono molto grato al mio editore epsilon per aver avuto fiducia insomma in questa storia no perché poi alla fine deve esserci comunque qualcuno che crede nella tua storia e normalmente è un editore insieme ovviamente mia gente eccetera però è è stato per me una grande gioia sapere di poter essere tradotto in in turchia anche noi abbiamo un grande piacere di conoscerti di leggere e poi abbiamo imparato la storia grazie a te e l'istituto italiano della cultura ha dato una grande mano per organizzare questa festa e durante la pandemia abbiamo avuto abbiamo amplificato il nostro orizzonte tu hai sempre detto che sei molto felice di essere italiano diverse volte hai detto di essere nato di essere studiato di aver studiato e tutto è iniziato con te con l'Iliade di Omero che era insomma tua zia che ti aveva regalato hai studiato la giurisprudenza però la birra nera ti piace il vino rosso ti piace la musica rock ti piace insomma sei un autore contemporaneo e in mano abbiamo un'opera meravigliosa scritta da parte tua prima di iniziare a questo libro hai scritto altri libri ma purtroppo non sono ancora tradotti in torco ti chiami Matteo Struccio il tuo cognome non è tanto italiano ci parli un pochettino delle tue origini forse è tutto italiano ma mi suona un po' straniero cosa è nel tuo bagaglio ci puoi raccontare un pochettino cosa come sei tu chi sei tu allora quello che hai detto è tutto verissimo il cognome è di origine austro-ungarica perché il veneto è stato dominato veneto è la mia regione la regione di venezia in italia è stata dominata dall'austria ungheria dal diciamo subito dopo la dominio napoleonico quindi dal diciamo dai primi anni dell'ottocento fino al 1861 quando poi entra nella diciamo quando il momento diventa poi italiano quindi questi 60 anni sono stati dominati dall'austria ungheria e il mio cognome di origine ungherese in realtà transilvano perché l'ufficiale ungherese proveniva dalla regione della Transilvania che in quel momento non era ancora Romania e ma io quello che hai detto è tutto giusto amo molto la letteratura classica quindi ho letto molto Dumas Balzac Victor Hugo ovviamente anche Umberto Eco Manzoni e poi ovviamente tutti gli autori russi Tostoyevsky, Tostoy, Gogol eccetera Goethe, Schiller quindi insomma in realtà amo quel tipo di narrazione che è avventurosa ma classica insieme sono orgoglioso di essere italiano perché tradizionalmente queste storie rinascimentali vengono raccontate soprattutto da autori anglo-americani e mi faceva un po' ridere insomma che fossero gli autori anglo-americani a raccontare il rinascimento italiano è chiaro che bisogna studiare molto per scrivere questo tipo di romanzi però per me era importante perché ho avuto la sensazione che negli ultimi anni alcuni romanzi e libri di grande successo italiani abbiano raccontato un po' troppo soltanto l'Italia sotto il profilo della denuncia giusta della criminalità organizzata della mafia della camorra eccetera eccetera e questo fatto però come dire se diventa l'unico motivo per cui l'Italia è conosciuta all'estero mi sembra un po' riduttivo io volevo un po' riportare l'attenzione sulla bellezza, l'arte e così la grande tradizione di artisti come Michelangelo, Leonardo, Donatello, Raffaello che sono le tartarughe ninja per gli Stati Uniti invece sono quattro grandi geni della della storia dell'umanità ecco e quindi insomma rimettere un po' a posto certi certi mattoncini nella costruzione insomma Allora L'Iliade di Omero è un poema epico sta parlando di Troia addirittura tua zia te l'ha regalato e dopodiché l'hai letto, vuol dire che per Omero, per l'Iliade, insomma qualche cosa che dipende da te, perché non è così facile per un ragazzo, per un adolescente capire e leggerlo. Noi in generale abbiamo un modo di dire per dire il sangue che deve essere versato non resta nella vena, vuol dire che si capiva da bambino che tu diventavi un autore storico, possiamo dire così? Possiamo dirlo sicuramente, sai mia zia, ho tante zie, sono tutte professoresse e quindi fin da bambino mi regalavano libri, mia zia in particolare voleva che cominciassi con una buona lettura fin dall'inizio e quindi mi ha regalato l'Iliade e io l'ho letta molto come se fosse un grande poema d'avventura alla fin fine e devo dire che ci sono state alcune scene talmente incredibili come il duello tra Ettore e Achille, il fatto già segnato per Ettore eppure lui che decide nonostante sappia di perdere il duello di andare ad affrontare con onore il campione dei greci e anche la scena per esempio alle porte c'è tra Ettore e Andromaca, l'amore, la dignità, il coraggio, nonostante gli dei proteggano l'invulnerabile Achille, ecco tutto questo mi ha affascinato enormemente da bambino e credo che sia il motivo principale per cui poi io sono diventato un lettore compulsivo, io divoravo e divoro tuttora i libri, sono un grande lettore perché ho capito che il mio presente, il mio passato, il mio futuro è nelle storie, ho bisogno di storie, devo ascoltare, leggere storie e nutrire la mia mente e la mia anima e quelle che magari non ho trovato perché forse non sono stato abbastanza bravo a cercarli, quindi da lì è arrivato poi anche la scrittura dei miei romanzi insomma. Cioè come storico hai avuto grande successo perché noi abbiamo letto solo il primo volume e per poter scriverlo non bisogna conoscere solo la storia italiana, bisogna conoscere tutte le dinamiche, tutte le influenze di quel periodo, cioè tu si capisce che sei padrone di quel periodo e sei uno storico meraviglioso e certamente scrivere un romanzo non è facile perché poi non crei tu degli eroi, ci sono dei punti difficili, ci sono già delle persone e tu hai descritto la famiglia Medici, c'è stata tutta una motivazione, ci puoi raccontare questa motivazione? Sì certo, allora guarda, intanto mi aveva colpito il fatto che nessuno, cioè nessun autore italiano avesse ancora scritto un romanzo, saggi ce n'erano molti, ma un romanzo sulla famiglia Medici, che è la famiglia, come dire, sono i mecenati e gli uomini rinascimentali per eccellenza, sono coloro che di fatto il rinascimento l'hanno creato perché appunto finanziavano, incoraggiavano gli artisti, perché avevano capito che la cultura e la bellezza erano una manifestazione del loro potere e gli consentiva di avere un controllo sulla città e quindi sulla cosiddetta Repubblica, perché poi di fatto era una signoria medice appunto della famiglia Medici. Quindi la ragione è che questa storia secondo me mancava nella letteratura italiana, io sono stato così pazzo da affrontare questa sfida, infatti ho scritto quattro poi i romanzi, perché in realtà i romanzi sono quattro sui Medici, questo è il primo, ovviamente ho studiato per anni prima di scriverli, poi in realtà è come se fosse un unico romanzo diviso in quattro parti, anche se ognuno è autonomo, indipendente, può essere letto singolarmente, diciamo, però appunto volevo raccontare la bellezza e la memoria dell'Italia attraverso un grande affresco in quattro parti, perché secondo me era una storia che i lettori cercavano, i lettori italiani, e infatti poi quando il libro è uscito ha avuto un grande successo, probabilmente perché era una storia che non c'era. E credo che sia sempre molto importante, cioè il modo migliore per scrivere un romanzo che funziona è che sia anche rispettoso dei personaggi, come dicevi tu, personaggi storici, sia quello di farlo perché senti che hai qualcosa da dire rispetto a qualche cosa che non c'è, e allora la tua motivazione è molto più forte, riuscire a trovare qualcosa che non è stato raccontato come un romanzo, perché appunto sui Medici avevano scritto molti saggi, molte monografie, ma romanzi non ce n'erano, soprattutto da parte di autori italiani. Hai già parlato che in 20 lingue e 40 paesi riescono a leggere questo tuo romanzo, si capisce che oggi la gente cerca di imparare la storia dai romanzi, non vuole i libri della storia, il rinascimento dall'Italia, dalla Francia, cioè tutto viene spiegato da questi paesi e questo se si diffonde in questo modo nel mondo vuol dire che c'è un grande responsabilità su di te. Lo senti questa responsabilità? Ok, wow, ma guarda, non ci penso, cioè in realtà io voglio raccontare queste storie e quindi io penso che poi le lettrici e i lettori amino queste storie perché sicuramente imparano un po' di storia, io ovviamente studio tanto ma poi quello che inserisco è solo una piccola parte di quello che ho studiato perché devo stare attento a non annoiare i lettori e quindi i fatti che racconto sono accaduti ma li unisco con delle trame di intrighi, tradimenti, duelli, soprusi, violenze, amori ovviamente, alleanze, battaglie in modo che ci sia quel romanzo che per me è, se vogliamo, proprio il romanzo ottocentesco di, penso alla Rea Margot di Dumas o al Conte di Monte Cristo o ai Miserabili, no? Ecco, la San Felice, queste grandi storie che in realtà prendono la storia e la storia è protagonista ma è anche un teatro all'interno del quale ci sono le vicende dei vari personaggi storici. Ovviamente la grande difficoltà è cercare di rispettare lo spirito del personaggio e la mentalità del tempo, cioè di quel tempo che io vado a raccontare. Quello ovviamente è una parte molto difficile e la mia speranza è che i lettori, insomma, di vari paesi del mondo possano magari partire dai miei romanzi, appassionarsi, perché no? E magari poi andare, se vogliono, ad approfondire leggendosi anche qualche saggio, perché voglio dire io penso che il romanzo ambia anche questa funzione che può insegnare e divertire, intrattenere allo stesso tempo e magari darti la voglia di approfondire successivamente. Certamente. Tu quando eri piccolo avevi detto o voglio diventare rock star oppure un autore. Secondo me in questo momento tu sei un rock star perché in tutto il mondo sei conosciuto e nello stesso momento sei autore vuol dire hai realizzato tutti i tuoi sogni prima di queste serie che cosa hai scritto? Noi non ti conosciamo ti abbiamo conosciuto solo con questo primo volume di Medici e voglio vedere anche il resto. La differenza di questo libro che cos'è? Perché è stato interessato di più? Ma allora prima avevo scritto dei thriller anzi dei noir e avevo come protagonista una killer italiana e questi romanzi sono tre la protagonista si chiama Mila ed è un po' nello stile di Quentin Tarantino Robert Rodriguez quindi sono dei romanzi molto visivi poi ho scritto un thriller ambientato nell'Ottocento in Veneto e quindi mi sono avvicinato al romanzo storico e poi ho scritto sempre prima dei Medici un romanzo ambientato tra la Russia e la Transilvania nel 1200 è comunque un romanzo storico c'è una strega insomma diciamo ci sono i cavalieri teutonici è un po' storico e un po' fantasy ed è... si rivolge soprattutto a un pubblico più giovane i cosiddetti young adults perché osamane da Medici allora perché come mai con Medici ti abbiamo conosciuto di più in tutto il mondo ti hanno conosciuto di più? ma io penso perché come dire il Rinascimento è un'età un periodo in cui l'arte e la bellezza sono protagoniste e credo che personaggi come cioè l'idea per i lettori di poter essere al fianco di Lorenzo il Magnifico di Leonardo da Vinci di Filippo Brunelleschi di Cosimo de' Medici fosse come dire una sfida e anche un momento esaltante sono grandi personalità della storia il mio tentativo ecco se dovessi dire perché questo romanzo ha avuto successo più di tutti gli altri è che in qualche modo io prendo il lettore e lo scaravento nella scena a fianco a Filippo Brunelleschi a Cosimo de' Medici e poi nei libri successivi a Leonardo a Caterina de' Medici Lorenzo il Magnifico quindi questi grandissimi personaggi la pensa anche solo alla costruzione della cupola del fiore a Firenze credo che ci fosse come dire grande sorpresa ecco nell'essere nel trovarsi come lettore a fianco a questi personaggi e vivere con loro le loro grandi avventure le loro grandi sfide da un certo punto di vista penso di aver affrontato dei grandi personaggi però con una certa come dire empatia ecco per cui il lettore li sente vicini e questo secondo me è forse forse il segreto del successo di questo libro il fatto di trovarti comunque quasi ad ascoltare quello che dice Cosimo e forse il modo in cui viene raccontato è credibile penso o comunque riesce a coinvolgere lettrici e lettori di tanti paesi nel mondo hai ragione veramente le persone in realtà cercano di sentire le bellezze e cercano di accompagnare tutte queste bellezze per il periodo del rinascimento il periodo del rinascimento per tutte è importante si interessi o non si interessi con la storia tutto il mondo si è influenzato se oggi viviamo in un certo modo grazie al rinascimento se non ci fossero i medici perché in questo libro li abbiamo conosciuti si può dire che potrebbe mancare il rinascimento magari una sfida a questo però da quello che ho letto ho pensato così che ne dico sì sono perfettamente d'accordo con te senza i medici non sarebbe non ci sarebbe stato il rinascimento perché l'intuizione di Cosimo prima di tutti è stata quella di capire che recuperare la bellezza e la cultura come cifra come momento di potere di conquista o meglio Cosimo capisce che per conquistare Firenze non può dominarla con la spada ma deve sedurla con la bellezza e quindi quando viene realizzata la cupola di Santa Maria del Fiore o quando come succede per esempio nel romanzo successivo Lorenzo si appoggia a Leonardo da Vinci e poi c'è Marsiglio Officino l'Accademia Neoplatone la riscoperta dei classici e quindi anche di quegli ideali di armonia legati alla cultura greca la cultura classica e poi c'è Sandro Botticelli quindi questi grandi artisti che sono tutti a Firenze arrivano tutti a Firenze perché i medici finanziano il loro genio e finanziando in realtà contribuiscono a moltiplicare i talenti per cui gli artisti si confrontano si sfidano e collaborano anche in alcuni casi si creano le botteghe dei grandi artisti ecco tutto questo ovviamente poi crea quella incredibile scena da Firenze ci sposta in parte a Milano alla corte di Ludovico il Moro e poi a Roma con il papato e con artisti come Michelangelo ad esempio io ho scritto un romanzo successivo che si intitola Inquisizione Michelangelo e che racconta proprio la Cappella Sistina gli affreschi della Sistina il giudizio universale la Stato cos'è ecco possiamo dire che i medici pongono proprio le basi per quello che è il rinascimento che poi arriva appunto anche a Milano anche a Roma e poi in tutto il mondo perché arriva in Francia perché con Caterina dei Medici quegli ideali di bellezza di proporzione di armonia arrivano anche alla corte dei Valois per esempio e quindi come dire il rinascimento diventa mondiale a quel punto è una grande rivoluzione hai ragione proprio io penso così certamente la storia va avanti sempre con le fonti finanziarie e poi parliamo solo come come se fosse un braccio ma quello che è interessante per me io mi sono vestita in bianco perché mi sono influenzata da Cosimo dei Medici e lui fino alla fine della sua vita parlava della pace solo della pace del consenso e voleva che nel suo paese ci fosse un clima del genere a Venezia a Venezia a Firenze insomma dappertutto voleva che ci fosse pace non è strano questo perché oggi nel mondo se anche i medici sono medici insomma dottori in realtà sono banchieri non sono medici cioè si interessano con la finanza invece oggi i soldi portano la guerra i medici invece l'hanno utilizzato per portare la pace come mai questo questo è molto interessante che grandi decisioni hanno preso sulla politica anche sono hanno un carattere molto solido hanno una mentalità molto solida come mai così pacifisti questo fa parte del loro carattere oppure è sempre il potere dei soldi ma allora diciamo che i medici avevano la capacità di creare una situazione che era pacifica perché ricordiamo erano comunque anche banchieri e uomini di potere e come dire il loro potere sulla città era comunque tale per cui non veniva come dire messo in discussione quindi era una pace però insomma che ovviamente era anche garantita dalla dalla politica e da un abile gioco di alleanze e anche di gestione del potere attraverso come dire compravendita del voto corruzione quindi i medici non erano esattamente dei santi però certo cercavano attraverso la diplomazia questo sì naturalmente e come dicevamo attraverso anche il diciamo il finanziamento dell'arte e della bellezza di comunque mantenere la città in un clima di pace perché la pace portava prosperità quindi come dire riuscivano ad avere il controllo ma a garantire anche la pace il problema però oggi venendo la domanda che tu mi hai fatto ho la sensazione che invece la parte legata alla bellezza all'arte alla cultura è stata uccisa dalla tecnologia credo che la tecnologia abbia devastato l'arte oggi e purtroppo io ovviamente parlo per per l'Italia che è il paese che conosco ho la sensazione che l'arte sia troppo spesso penso al teatro al cinema alla letteratura sia troppo spesso considerato un momento di svago quando invece è nutrimento per l'anima io in questi due anni ho sofferto moltissimo nel senso che ho lavorato molto ho scritto tanti libri però non poter andare al cinema non poter incontrarmi con le persone non poter andare nelle biblioteche o a teatro della pandemia e questo periodo viene riflesso a oggi e nel tuo libro si parla pure della peste perché in quel periodo in Cina salta fuori peste e poi con le navi viene in Italia ci sono diversi approcci ovviamente però poi si diffonde in tutta l'Europa e un terzo delle persone delle popolazioni muoiono in quel periodo veramente una cifra allucinante e in questo periodo stiamo vivendo Covid-19 questa nostra pubblicazione sarà storico domani ne parliamo è una virus nuova Italia ai primi giorni ha sofferto tanto in tutta l'Europa e tutto il mondo in realtà durante una intervista hanno detto sì è un periodo brutto però io sono calmo perché tutto passa un giorno infatti anche tu nel tuo libro dici stai riassumendo questa pandemia di pesto e per quello che si vive oggi come pensi hai questo calmo puoi dire che passerà un giorno anche Covid-19 ma allora lo spero e ho ovviamente fiducia nella scienza nella medicina e credo che il vaccino comunque stia già facendo degli effetti importanti e anzi invito tutti a vaccinarsi detto questo diciamo che però la storia ti dà la prospettiva cioè noi oggi ad esempio in Italia si dice che stiamo vivendo una guerra credo che non abbiamo la più pallida idea di cosa stiamo dicendo la guerra è un'altra cosa io grazie a Dio non l'ho fatta mio nonno l'ha fatta ed era un uomo devastato dai ricordi della guerra per fortuna era sopravvissuto la prospettiva che ti dà lo studio della storia è quello per cui ti rendi conto come dicevi giustamente tu che effettivamente in passato c'è stata la peste c'è stato il colera c'è stata la sifilide ci sono state tantissime epidemie che hanno ucciso un numero enorme di persone e quindi io credo che passerà anche questa questa pandemia per fortuna credo al momento certo è è sicuramente una tragedia perché ci sono stati oltre 4 milioni di morti nel mondo però non dimentichiamo che siamo una piccola parte nella storia e se avessimo la possibilità di parlare con gli abitanti di Firenze dell'Italia e dell'Europa del 400 o del 500 e vivessimo forse anche un solo giorno in quegli anni beh ci renderemo conto che come dire il Covid-19 certo è sicuramente stato un dramma ma rispetto a certe altre pandemie per adesso e spero che finisca qui sì non è stata così tragica cioè come dicevi giustamente tu per la peste e per e per e per la sifilide per esempio la popolazione mondiale è stata veramente ridotta di tantissimo purtroppo quindi credo che la prospettiva storica aiuti anche a riportare nelle proporzioni le tragedie pure importanti che si verificano infatti tu scrivendo un romanzo storico hai toccato tante fonti sono sicura ti hanno alimentato tante fonti italiane molto probabilmente ma credo che anche le fonti straniere magari hai letto magari per creare un meccanismo forse hai studiato anche la storia ottomana perché nel 1429 insomma poi la caduta di Costantinopoli e insomma hanno avuto un grande effetto Mehmet il secondo conquistatore eccetera insomma qui c'è tutta un'altra storia e questa storia ottomana queste fonti si riescono a trovare facilmente in Italia in Europa in generale ma no non tanto dico la verità o almeno insomma è chiaro che ad esempio studiando alcuni personaggi penso per esempio a tutta la questione come dicevi giustamente tu della caduta di Costantinopoli e del tentativo che c'era stato proprio da parte di Cosimo dei Medici di riunire le chiese diciamo così d'Oriente e d'Occidente la chiesa diciamo così greca e la chiesa cristiana ecco lì naturalmente ci sono parti che parlano della storia dei Medici e che si e le stesse cronache diciamo così del tempo perché ricordiamoci che ci sono tutta una serie di intellettuali e di traduttori di opere greche e comunque che studiavano inevitabilmente anche la cultura ottomana come per esempio Marsiglio Officino o Pico della Mirandola per fare due nomi ebbene lì si trovano io poi tra l'altro sono appassionato di figure come Mehmet secondo il conquistatore e di Solimano il Magnifico per esempio c'è un romanzo bellissimo che ha scritto Tim Willocks sull'assedio di Malta da parte di Solimano il Magnifico si intitola The Religion non so se è tradotto in Turchia ecco e quindi è una storia che mi che mi appassiona molto anche per esempio la storia che coinvolge Mehmet secondo il conquistatore e Vlad Zepes in Transilvania per esempio anche quella l'ho studiata molto perché c'è questa questa storia per cui in realtà Vlad viene come dire consegnato come tributo al sultano e di fatto vive alla corte del sultano e viene educato come come un un giannizzero c'è tutta l'epopea per esempio dei giannizzeri che è molto interessante quest'idea ad esempio dei ragazzi che venivano scelti da parte ovviamente delle truppe ottomane che poi venivano educati con il codice militare dei giannizzeri e diventavano poi come dire parti ovviamente di una cultura molto più grande e che forse come dire li ha completamente anzi certamente li ha trasformati completamente tanto che poi persino come dire le le popolazioni del nord penso agli scandinavi in particolare diventano la guardia variaga per esempio dell'imperatore ottomano è molto interessante studiare la storia ottomana perché anche da parte dei sultani c'è un'attenta come dire egemonizzazione culturale che è sì militare ma è anche culturale perché coinvolge uomini giovani uomini di popolazioni di culture diverse e li attrae diciamo così all'interno del grande del grande impero e ricordiamoci che comunque se a Vienna come dire l'assedio fosse finito in un altro modo probabilmente la cultura ottomana sarebbe arrivata fino a Roma quindi la storia da questo punto di vista è molto è molto affascinante e devo dire che studiare come dire l'imperatore ottomano e i grandi i grandi sultani e i grandi imparatori ottomani è davvero molto affascinante è una cosa che mi interessa molto la letteratura italiana ha dei nomi particolari c'è anche una storia tu sei proprio una conseguenza di questi nomi cioè c'è un erede alle tue spalle e tu come un autore contemporaneo dove cerchi di portarlo non ho capito bene cioè io sono un erede dei precedenti autori esatto sei proprio un erede e allora dove vuoi portare domani questa tua eredità ok ok chiaro domanda bellissima allora beh sicuramente sicuramente Alessandro Manzoni Umberto Eco Sebastiano Vassalli Maria Bellonici sono grandi autori italiani e ovviamente anche nella storia della letteratura mondiale di cui mi sento figlio e erede non lo so ma insomma sicuramente sono cresciuto leggendo i loro libri diciamo che il mio tentativo è di portare il romanzo storico che forse prima non dico solo dei miei romanzi ma anche dei miei romanzi era sempre considerato anche in Italia come un romanzo molto ingessato molto fermo molto come dire non voglio dire pesante ma insomma denso intenso non sempre di facile lettura ecco il mio tentativo è quello di mantenere quel gusto quell'aroma di classicità se si riesce naturalmente con tutta la modestia e l'umiltà del caso sia chiaro però cercando di portarla in una lettura che sia quella del 2021 2022 quindi dare per esempio io scelgo di scrivere dei capitoli abbastanza brevi cerco di avere sempre una scrittura molto leggibile molto molto semplice che non vuol dire povera ovviamente o almeno insomma spero di no ma ecco efficace le descrizioni sono importanti ma non non bisogna esagerare e cerco sempre di avere qualcosa di particolare che accada in ogni capitolo delle sorprese dei cliffhanger dei colpi di scena in modo che il lettore rimanga come dire attaccato alla pagina e voglia arrivare il più velocemente possibile alla fine perché vuole vedere che cosa succede ecco questo è un po' il mio tentativo che poi ovviamente anche sposare come dire la mia eredità italiana anche appunto con il romanzo diciamo così europeo e direi anche il teatro che per me è molto importante per esempio io sono un amante ovviamente di William Shakespeare ma prima citavo anche Friedrich Schiller penso ai Masnadieri oppure a Christopher Marlowe da Merlano ecco ci sono questi straordinari grandissimi autori di teatro penso anche a Ibsen per esempio che mi aiutano a costruire dei dialoghi che siano da una parte come dire rispettosi del tempo e dall'altra però abbiano anche quella centralità quella quell'impatto che riuscivano ad avere ovviamente quegli autori poi è chiaro insomma io faccio quello che posso però insomma quello è il da una parte il riferimento dall'altra è anche il tentativo cioè portare il romanzo storico e il teatro nel ventunesimo secolo hai descritto una cosa meravigliosa e posso dire che il tuo libro è un riassunto di tutto ciò che hai raccontato veramente è stato tradotto anche molto bene in turco così prendiamo tutto ciò che tu hai detto e siccome adesso è un fiction televisivo io non l'ho visto perché voglio che leggerlo piuttosto tu quando l'hai visto alla tv cosa hai sentito tu? Ti ha soddisfatto quella fiction televisivo? Allora allora dico una cosa la fiction non è tratta dal libro diciamo che sono due cose che sono uscite insieme e diciamo che quello che posso dire io è che a me la fiction è piaciuta perché anche se ha ovviamente come è normale degli errori però dà la possibilità a molte persone di appassionarsi al rinascimento proprio come fa il romanzo e quindi poi dà la possibilità a tante alle persone che guardano la fiction o che leggono il romanzo magari appunto come dicevo prima di farsi un'opinione più precisa andando a leggere magari dei saggi o comunque o magari o magari macchiavelli no? perché poi basterebbe leggere il principe o le storie fiorentine o la storia d'Italia di Guicciardini no? per 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 cogliere in pieno l'anima del rinascimento quindi in questo credo che comunque la fiction sia stata utile e anche ben fatta per essere ovviamente una serie tv ecco poi credo che sia anche giusto distinguere cioè una serie tv ha un certo grado di approfondimento un romanzo ne ha un altro un saggio ne ha un altro ancora l'importante è c'è spazio per tutti l'importante come dire è sapere che cosa si trova e che cosa si vuole cercare anche e sizin kitabınız böyle sahnir un libro scena per scena come se fosse un fiction vuol dire che io ho capito male ho pensato male perché sono due elementi che si sono unite io sono curiosa di una cosa da Omero sei partito e sei diventato un autore storico insomma la poesia ti ha alimentato oggi la gioventù di oggi domani come sarà influenzato domani possono diventare degli autori anche loro ma sicuramente sì e saranno anche ce ne saranno anche di molto bravi immagino ce ne sono già di molto bravi ovviamente è un tipo di narrazione diversa io forse non sono ancora così vecchio però non sono nemmeno più così giovane mi rendo conto che appartengo ancora cioè mi sento un po' come l'ultimo dei moicani di Fanny Moore Cooper nel senso che ho ancora avuto il tempo per gli anni che ho di vedere un mondo che assomigliava a quello di mio padre o di mio nonno e forse rispetto ai ragazzi di oggi vent'anni gli ultimi vent'anni sono stati a mio giudizio molto più veloci degli altri precedenti 80 per certi aspetti immagino che scriveranno cose molto diverse io devo dire la verità avverto un po' uno scollamento nel senso che mi rendo conto che oggi leggo tantissimi autori classici e forse leggo pochi autori contemporanei magari è anche un mio modo per rifugiarmi in un certo tipo di letteratura cioè quando esempio nel periodo della pandemia devo dire che leggere i miserabili di Victor Hugo o il Pergoreau di de Balzac è stato un balsamo a quelle che sono le offese della vita del lockdown di non potersi muovere non poter uscire eccetera non credo che avrei avuto lo stesso come dire ma parlo per me ovviamente la stessa cura ecco o comunque la stessa anche soddisfazione nel leggere un autore contemporaneo non perché non possano essere così bravi ma perché probabilmente per poter diventare come quegli autori serve del tempo cioè è il tempo che poi stabilisce che cosa è grande letteratura e che cosa non lo è però penso che ogni periodo avrà e abbia avuto dei grandi autori sono coloro che io tra l'altro penso che quello che stiamo vivendo sia un mondo molto difficile da raccontare e chi chi prova a farlo ha tutta la mia ammirazione perché invece io ho un po' la tendenza a rifugiarmi nel passato per cui raccontare del rinascimento o del medioevo diventa quasi un po' un modo per scappare da quello che vedo attorno ecco ma credo sia anche giusto perché credo sia bello non dimenticare l'eredità di cui parlavi tu e il mondo dal quale veniamo ecco io non penso che dobbiamo dimenticare la grande cultura ottomana o rinascimentale nel momento in cui lo facciamo stiamo ponendo le basi per la nostra autodistruzione come esseri umani e quindi sono per la memoria per il ricordo e per e per provare ad avere questo questo ruolo come scrittore poi tanti altri scrittori più bravi di me raccontano il presente a questo punto visto che c'è anche signora Nermin vuol dire che siamo arrivati alla fine Matteo Struckel è veramente un personaggio che si è realizzato è un personaggio molto felice se rinasce un'altra volta vuole diventare autore di nome Matteo Struckel va bene? si va bene proprio così prima di tutto voglio fare i miei complimenti a Melis Köyman e a Aldemir che sono stati bravissimi a tradurre questo libro ringrazio aspettiamo anche gli altri volumi Matteo noi come turchi vogliamo fare questa domanda sei mai stato ad Istanbul sei mai venuto in Turchia a tutti gli stranieri facciamo questa domanda noi vuoi venerci? vuoi venerci? assolutamente sì assolutamente sì allora questa sera è stata realizzata e grazie a i tefe allora questo tua voglia questo tuo desiderio lo mettiamo come un appunto allora per questa nostra geografia per tutta questa storia si prende anche il nostro paese nel tuo romanzo che tipo di romanzo chi sarebbe il protagonista perché io so benissimo che tu conosci la Turchia chi sarebbe il tuo protagonista? come dicevo prima probabilmente penso che mi piacerebbe raccontare una saga dovrei studiare tantissimo però mi piacerebbe molto raccontare Mehmet il conquistatore o Solimani il magnifico sono due personaggi spaventosi incredibili più grandi più grandi più grandi della storia quasi sono degli uomini che scavalcano la storia perché hanno una visione e questa cosa sono un po' come i medici sono dei grandi conquistatori ma capiscono che insieme ovviamente alle armi alla potenza militare c'è però una visione più ampia che è la grande egemonia culturale che loro che loro realizzano un po' come dicevo prima e quindi da questo punto di vista li trovo affascinanti come personaggi sicuramente sarebbe bellissimo scriverne però credo che dovrei studiare tantissimo io sono sicura che insieme ad Aicha ad Istanbul ti possiamo far girare nei palazzi nelle zone dove lui ha vissuto loro hanno vissuto ti promettiamo in questo modo e certamente è stato meraviglioso sentire voi due ti abbiamo stancato grazie Aicha grazie Aicha speriamo che questo sia ripetuto nel modo non virtuale in modo tale da poter girare ad Istanbul mangiare insieme io voglio aggiungere una cosa è arrivato un espresso e un limoncello mentre parlavo mi accompagnavano questi due che e voglio ringraziare anche signora Nur perché ha reso speciale questa nostra intervista grazie grazie anche da parte mia ovviamente intanto signora Cardelen della nostra squadra si occupa delle tradizioni ha solo 26 anni e il suo compleanno allora facciamo auguri in italiano a Cardelen riesci a dire Cardelen questo Cardelen si Cardelen ok tanti auguri ehm 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 domani sera sempre sotto i tef andiamo avanti con il nostro programma vi aspettiamo di nuovo rimanete con la letteratura grazie a tutti voi ciao Matteo grazie 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 a tutti ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti